Ci facciamo uno spritz insieme. Replica Sistemi ti invita a Smile Spritz Time, brevi aperitivi online per interagire con top manager di importanti aziende. Ti aspettiamo giovedì 29 aprile con Giuseppe Pitarresi, IT manager di Iritech, che ci racconterà quali sono gli asset vincenti in tema di innovazione e sostenibilità per diventare dei leader a livello internazionale. Iscriviti all'evento e brinda con noi. Replica Sistemi, Replica Successi, Zucchetti Group.